Ciao Patrizia. Ehi, ciao Antonio. Come stai? Bene, bene. Tu? Tutto bene Grecia. Tutto bene? Guarda, sei cascato a pennello. Come mai? Eh, perché c'è Michele di là che ti aspetta. Andiamo a bere che vuole. Dai, andiamo. Eccomi Michele, sono pronto. Che mi fai cucinare? Oggi facciamo la ciceletta, è un piatto tipico salentino. Abbiamo una zuppa di ceci unita della pasta fatta a mano con farina integrale di crusca. Ok, aggiungi l'olio, abbondante olio. Metto in questo grande? In quello grande, sì, sì, quello grande. Tutti, Michele? Un paio, quattro, cinque cucchiai di ceci. Adesso aggiungiamo la pasta che abbiamo precedente fritta. Sì. Metto tutta? Sì, sì, la puoi mettere tutta qua. Adesso possiamo scolare la pasta che arriva. Direttamente da qui? Sì, 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 sì. Va bene così Michele? Molto, va bene sì. Allora Michele, come sono andato a cucinare? No, non sono male, voglio fare meglio. Se Michele ti assumo aiuto vuoto. Perfetto, ho un futuro garantito. Ascolta Patrizia, come mai hai scelto questo menu? In realtà noi del 203 ci teniamo tanto alla materia prima che sia del territorio e quindi per questo ho anche scelto Enegal perché segue la filosofia del rispetto dell'ambiente che è molto importante. A tal proposito, volevo dirti che hai la possibilità tramite l'app non solo di controllare tutta la tua fornitura ma anche di adottare un vero albero in Kenya e seguirne la crescita. Quindi, più green di così direi che non si può. Non si può. Bene, Michele proviamo, vediamo che cosa ho combinato. Dai, assaggiamo questo piatto. Mmmmm. Grazie.